Baraonda, Baraonda con gli amici a base Cari amici di Baraonda, eccoci qui Adesso in compagnia di Francesco Buonasera Saluto Francesco, lo conosciamo tutti E' il titolare della compagnia del Concord Praticamente che ci troviamo però a Ponte Cagnano In via Giulio Pastore Ai confini con Ponte Cagnano, ancora Salerno Questo è ancora Salerno, è vero Perché via Giulio Pastore è proprio quella strada Se vi ricordate che taglia come esce la tangenziale di Ponte Cagnano Per andare verso il cementificio Quindi su quella strada trovate sulla sinistra il Concord Dove potete ovviamente gustare delle bellissime cose Vero Francesco? Certamente, soprattutto a base di mare Il nostro menù è composto a base di mare per la maggior parte Ripercorrendo la tradizione della nostra mitica nave Ricordate la mitica nave Concord a piazza della Concord? A proposito, permettimi di salutare tuo padre che non vedo da tanto tempo Perché mi ha cresciuto Ciao Peppino Allora, Francesco Se dovessi venire qui al Concord Dico Che mi fai mangiare? Qualche piatto particolare? Vediamo i nostri amici internauti Perché dobbiamo invitarli qui? Perché dobbiamo invitarli qui? Qui, diciamo Se vogliono mangiare a base di mare Noi facciamo anche menù non di mare Però per la maggior parte a base di mare Facciamo una nostra serie di antipasti Che possiamo arrivare magari a un 18-19 assaggini vari Dei primi a scelta Facciamo, non so, dei paccheri con l'aragosta Con l'astice Dei ravioli ripieni di pesce di nostra fattura Fatti con la pescatrice Noi abbiamo pure un'altra sede a Pastena Compagnia del Concord by Arancito Che è la stessa cosa Ci sono divisi in due Eppure lì ci sono menù a base di mare Di carne Quello che uno preferisce Ricordiamo infatti il vecchio Arancito Che ora si chiama Compagnia Concord Arancito Zona Santeustacchio Via Santeustacchio 92 La strada che porta a Giovi La strada che porta a Giovi Venendo diciamo da Mariconda Quindi giusto per dare delle informazioni Uscita da Ancenziale e Pastena A destra sempre diritto E vi trovate via Santeustacchio E vi troverete sulla destra Il Concord Arancito Dovendo invece uscita di Ponte Cagnano Tangenziale di Ponte Cagnano Sulla destra Continuiamo dritto Girando per andare verso il cementificio Vecchio cementificio Abbiamo appunto l'altra compagnia del Concord Che è dove siamo qui ora Vero? Sì 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 Salutiamo i nostri amici di Barahonda Prima di cenare Francesco Un saluto mediano dalla compagnia del Concord Un saluto mediano dalla compagnia del Concord Ciao 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 Grazie a tutti.